Il sottofondo fuoco nel fuoco di Eros Ramazzotti in questo martedì 18 gennaio 18 i minuti dopo le 11 questo Radio FM1 all'interno della mattinata con Just in the Music Land e parliamo di bellezza sì parliamo perché Dostoevsky diceva che è la bellezza che salverà il mondo la bellezza data dall'arte no perché no dalla musica e quando l'arte e la musica si incontrano ecco che viene fuori il liceo musicale all'interno del preziotti di Cini di Fermo questa mattina ho il piacere di avere la dirigente Anna Maria Bernardini al quale do il benvenuto bentrovata grazie buongiorno e quindi parliamo di bellezza parliamo dell'arte e della musica che si incontrano insieme ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa venerdì mattino insieme al direttore del conservatorio di Fermo e ad oggi ne parliamo con lei in base a questa convenzione che si è stipulata tra queste due realtà del Fermano vero? Esatto confermo ecco questa bellissima collaborazione che è nata tra il liceo artistico preziotti di Cini di Fermo Porto San Giorgio e il conservatorio per volessi di Fermo e insieme couniti nella convinzione che sia strettamente necessario avviare questo liceo musicale nella realtà del Fermano proprio perché nel sud delle Marche oltre che per la presenza del conservatorio anche perché nel sud delle Marche manca proprio questa offerta formativa che è fondamentale considerando proprio la vocazione che ha sempre avuto musicale del territorio non solo per la presenza del conservatorio ma anche per la presenza di numerose bande musicali per la presenza di tanti tante risorse diciamo che hanno fortissime competenze nel campo musicale e risorse umane presenti nel territorio che possono effettivamente contribuire ad aumentare ecco questa cioè a far rimanere questa ricchezza presente nel territorio assolutamente necessario per cui uniti in questa convinzione possiamo collaborando per cercare di lanciare questo liceo musicale è un messaggio importante ecco che poi detta anche una continuità perché all'interno ad esempio delle scuole che vengono prima ovviamente no media elementare ci sono diciamo degli approcci no ad uno strumento musicale o comunque a dei percorsi no però c'era poi questo diciamo il prangente del liceo che era praticamente vuoto da questo punto di vista formativo no e quindi voi andate a colmare questa lacuna per creare una continuità no che poi porta direttamente lo studente interessato a potersi no approcciare allo studio superiore poi al conservatorio universitario assolutamente quindi è un anello sicuramente mancante questo liceo musicale nel territorio del sud delle Marche perché ricordiamo che attualmente i liceo musicali sono presenti soltanto nel Marche a Pessaro e ad Ancona quindi c'è anche uno squilibrio a livello territoriale oltre al fatto che generalmente la presenza di un conservatorio proprio per questa necessità di continuità richiede la presenza di liceo musicale dicevamo prima no con anche con Alessandro Luzzi che fa parte di croniche firmane della nostra redazione giornalistica no che se avessimo avuto questa opportunità anni fa l'avremmo fatto perché ad esempio noi siamo appassionati di musica no abbiamo studiato anche strumento eccetera e quindi avere un liceo musicale eh se c'era i tempi miei no Alessandro diceva io dicevo anch'io se c'era questa possibilità ha capito? Sì perché i campi di sbocco sono se uno vuole rimanere nel campo della musica non sono ovviamente solo quello del conservatorio ma sono molteplici quindi pensiamo appunto alla vostra esperienza eh in ambito radiofonico ma non solo ecco perché all'interno del liceo musicale l'offerta formativa è ampia quindi e lo studio degli strumenti è una parte quindi ovviamente ci vuole perché proprio per l'educazione alla musica è necessario è necessario acquisire appunto la conoscenza di strumenti musicali che in questo caso sarebbero due e ci sono tre ore di lezione di strumento musicale si insegnano due strumenti musicali con lezioni personalizzate quindi individualizzate poi eh ore di lezione nell'ambito della musica di gruppo quindi gruppo orchestrali quindi eh e poi ci sono anche altre materie tra cui c'è anche proprio lo studio della della eh che può servire proprio per formare nel campo radioponico proprio composizione eh studio e composizione non solo ma anche studio proprio della ehm c'è una c'è una materia che si chiama proprio tecnologie musicali quindi eh le tecniche proprio anche eh utilizzando eh digitale ecco per ottimo e creare musica molto cose molto molto interessanti e per ultimo ecco c'è una materia che si chiama storia della musica è che questo è importante perché si parte sempre da questo la formazione a 360 gradi queste materie non eh eh comunque non portano una eh diminuzione delle ore comunque delle materie che normalmente vengono fatti in un liceo quindi ci sono tutte le materie fondamentali che vengono fatte in tutti i licei e se mai si fanno delle ore in più perché complessivamente sempre le ore nel diegno sono 32 a fronte di 27 ore che vengono svolte normalmente eh negli altri negli altri licei e quindi comunque la preparazione è molto molto ampia e consente sia un inserimento a 360 gradi nell'insieme di tutte le professioni legate al campo musicale ma anche poi la possibilità di continuare perché lì c'è tutti gli effetti e quindi per non lasciare indietro quella che può essere la passione per la musica che accomuna tanti tanti ragazzi e non solo magari passione non solo ragazzi che già suonano strumenti musicali ma anche ragazzi appassionati al canto al rap ne abbiamo tanti ragazzi che sono appassionati che magari in diversi modi esatto hanno scoperto magari la passione per la musica più tardi e magari ecco hanno questa possibilità di poter iniziare un percorso di studio musicale senza tralasciare assolutamente tutto il resto che serve come bagaglio culturale ad un ragazzo insomma e il 19 gennaio alle ore 17 presso la sala dell'auditorio del conservatorio ci sarà proprio la presentazione di questo corso in cui lei sarà presente esattamente domani pomeriggio quindi 19 domani pomeriggio vi aspettiamo al conservatorio di fermo per parlare appunto della delle opportunità del liceo musicale noi stiamo raccogliendo delle pre iscrizioni oltre alle iscrizioni quello che noi raccomandiamo quindi è questo se c'è un interesse di pre iscriversi le prescrizioni tutono il 20 quindi diciamo scade a breve il termine per le pre iscrizioni accedendo al sito del liceo artistico prezziotti licino di fermo la sezione orientamento c'è la possibilità di pre iscriversi al liceo musicale le prescrizioni a noi servono anche per capire ecco la massa critica se c'è perché ricordiamoci che attualmente il musicale non è avviato quindi non è scontato il fatto che riusciamo a avviarlo solo se abbiamo un certo numero di iscritti per cui noi raccomandiamo sempre in base di iscrizione di indicare non solo la prima scelta che sarebbe il liceo musicale ma anche la seconda scelta in modo tale assolutamente va indicata in modo tale che se noi non abbiamo le garanzie di poterlo attivare immediatamente subito dopo la scadenza delle iscrizioni restituiamo le iscrizioni in modo tale che i ragazzi in questo modo sono le famiglie sono tranquille nel fatto che hanno comunque l'accesso su quella che è la seconda scelta che può essere anche una scuola completamente diversa dal liceo artistico non necessariamente deve essere con liceo artistico prezziotti licini ma può essere anche indicata un'altra scuola però è importante che si attivi questo corso e quindi per tutti coloro che sono l'ascolto che magari hanno il proprio figlio oppure un proprio conoscente appunto che è appassionato di musica che questa è veramente un'opportunità che come dicevamo in passato non si poteva non si aveva e quindi magari ecco divulgare questa notizia è importante proprio perché magari chi non lo sa è a conoscenza e quindi magari può accederli sa che c'è questa grandissima opportunità proprio nel nostro territorio ma il prezziotti licini di fermo e porto san giorgio ecco non è soltanto liceo musicale ma è tutto il mondo dell'architettura e ambienti arti figurativi design grafica scenografia insomma ci sono tanti indirizzi all'interno del liceo ci vuole parlare appunto della ci sono anche gli open days che termineranno adesso il 23 gennaio se non erro insomma dell'offerta anche formativa di questi indirizzi di studio grazie sì ne approfitto per parlare del liceo del liceo artistico all'inizio abbiamo parlato di bellezza di estetica sicuramente la musica comuna diciamo attraverso la bellezza tutto il piano di studi andrebbe ad ampliare il piano di studi che ha come questo tre di unione appunto della bellezza la bellezza che è un grande valore aggiunto e della nostra della nostra italia perché appunto la cura dell'estetica l'attenzione la sensibilità nei confronti della bellezza è un valore una è un qualcosa che noi dobbiamo coltivare nei ragazzi perché è il valore aggiunto che tutto il made in italy anche offre e anche nelle produzioni che vengono date all'estero e le professionalità italiane vengono proprio riconosciute all'estero proprio per questo valore aggiunto quindi il liceo artistico dà la possibilità di crescere di far crescere sempre all'interno di un percorso liceale i giovani con questo valore fondamentale che un grandissimo valore aggiunto della bellezza proprio domenica ne parlavamo all'istituto con corrado virgili che un ex alunno e che diceva appunto ci diceva di questo valore aggiunto che viene riconosciuto a livello internazionale gli indirizzi presenti sono diversi appunto come dicevamo abbiamo indirizzi si vengono scelti al quarto al terzo anno dopo un biennio diciamo che dà le tecniche fondamentali quindi un biennio comune esattamente quali sono gli indirizzi sono il figurativo che è presente sia nelle sede di fermo che nella sede di Porto San Giorgio il grafico che è presente nella sede di Porto San Giorgio architettura scenografia design che poi si divide in design industriale design della ceramica e design dell'orificeria e sono presenti nella sede di fermo gli indirizzi vengono scelti nel durante il secondo anno dopo una conoscenza diciamo che viene fatta dai ragazzi delle varie tecniche appunto per per una scelta consapevole certo e poi dopo ognuno sceglie se dedicarsi all'artificurativo appunto della della ceramica dell'orificeria tante le professionalità che poi verranno fuori da questo percorso di studi e che nel nostro territorio con tutte le bellezze che abbiamo insomma tutta l'arte dobbiamo formare nuove leve no che potranno conservare questi beni assolutamente ma ma non solo ma è un cioè questo della cura dell'estetica della bellezza è un valore aggiunto che può essere speso in svariati settori quindi non parliamo soltanto di sbocchi professionali strettamente connessi all'arma ad esempio tutte le aziende che a noi cercano anche l'iccio artistico ad esempio stiamo avviando una collaborazione anche con la con la elitron che produce macchine macchine proprio per il taglio dei materiali a livello industriale perché il design comunque l'estetica e ripeto il valore aggiunto tutto il made in italy pertanto in tutti i campi si cercano professionalità che in qualche modo hanno una attenzione per questo questa caratteristica che ripeto un grande valore aggiunto per l'italia e tutta la produzione italiana e per i professionisti per gli italiani che trovano anche lavoro all'estero inoltre l'iccio artistico sta diciamo si sta sviluppando molto anche nell'ambito delle delle digitale quindi sta sviluppando diversi progetti nell'ambito del digitale proprio perché ecco devono saper fare anche quello però prima di tutto ecco c'è la la capacità di saper fare ecco anche a mano poi digitale un aiuto è sicuramente indispensabile deve essere utilizzato al giorno d'oggi però come base ecco ci deve essere una buona preparazione anche manuale da parte delle ragazze ovvio all'interno del liceo appunto preziotti licini è possibile acquisire determinate competenze proprio spendibili nel mondo del lavoro quindi 23 gennaio l'open day in presenza quindi se vogliono possono prenotare qui è raccomandabile la prenotazione in modo tale che noi possiamo scaglionare le famiglie e organizzarci al meglio certo per ovvi motivi di sicurezza insomma e per le normative anti covid e poi appunto invece l'appuntamento di domani importante invece per questa novità per il fermano che è appunto il liceo musicale quindi domani ricordo che l'incontro è previsto alle 17 presso la sala auditorium della conservatorio quindi questo gemellaggio diciamo questa collaborazione appunto tra il conservatorio e il liceo preziotti licini io ringrazio la dirigente ovviamente che ha avuto con il quale ha avuto il piacere di parlare quindi anna maria bernardini le auguro una buona giornata e a risentirti